questo video è un'introduzione alle preposizioni e più precisamente alle preposizioni a e in in molte lingue tra cui lo spagnolo si usa una preposizione diversa se ci si muove verso un luogo o se si sta in un luogo questo non è il caso dell'italiano in italiano non facciamo questa differenza infatti possiamo vedere che io dico sono in italia vado in italia sono a roma vado a roma sono in un bar vado in un bar sono al bar vado al bar cercheremo quindi di capire un po la differenza tra queste due preposizioni e di avere delle linee guida che ci possano aiutare a scegliere quale preposizione usare in ogni caso vi consiglio vivamente di non provare mai a tradurre la preposizione da sola in quanto non funziona in nessuna lingua perché le preposizioni sono delle cose strane e abbastanza complicate in tutte le lingue da imparare si imparano fondamentalmente con molta molta pratica e in questo video cercheremo appunto di avere una base di capire alcune cose che ci possano aiutare farò molti video sulle preposizioni in quanto è un tema lungo e complesso e non si finisce mai di imparare nei primi livelli diciamo si imparano le basi e poi più avanti si dovranno imparare che preposizione va con univerbo eccetera eccetera quindi sbaglierete le preposizioni per molto tempo rassegnatevi allora dicevo che in italiano noi non facciamo questa differenza tra vado in un posto o sono in un posto ma soprattutto per quanto riguarda la preposizione a e la preposizione in usiamo una preposizione o un'altra preposizione dipendendo dalla categoria dal concetto della parola che segue quindi anche se ci sono preposizioni che dipendono da un verbo ci sono altrettante preposizioni che dipendono dalla parola che segue riprendiamo gli esempi che abbiamo fatto prima in in italia in un bar a roma al bar teniamo presente che la scelta non dipende dal verbo ok e una cosa che vi può aiutare è questo esempio voi ricevete un messaggio sul vostro telefonino di un amico che vi dice ci vediamo alle 8 in un bar oppure il messaggio ci vediamo alle 8 al bar in quale caso dovete scrivere al vostro amico per chiedergli in che bar vi dovete vedere e in quale caso invece sapete già perfettamente dov'è il bar dove vi incontrerete metti in paso il video pensa a quale preposizione da un'idea di un luogo più concreto definito e quale preposizione dall'idea di un luogo meno concreto e definito quello che vi spiegherò adesso non ha nessuna base scientifica ma funziona immaginate una città tipica italiana le città italiane sono grandi metropoli o piccole città io direi che in media sono città piccole o medie che non sono grandi metropoli allora prendete quindi questa città di piccole e medie dimensioni e immaginatevela alla fine del diciannovesimo secolo o all'inizio del ventesimo secolo pensate a questa città e pensate quante università ci sono quante chiese ci sono quante fabbriche ci sono quante banche ci sono eccetera se io dico sono o vado in fabbrica l'idea che noi abbiamo è che ci sono molte fabbriche e quindi io avrò bisogno di un'indicazione più precisa così come quando dicevamo ci vediamo in un bar mentre se io dico allo stadio o all'università io so che ci sarà un unico stadio e un'unica università e quindi non è necessario dare ulteriori indicazioni perché tutti sapranno dov'è cioè l'idea generale che a è più concreto e in e più generale infatti se ci pensiamo l'altro esempio che abbiamo fatto all'inizio era a roma in italia mettiamo il caso che io vada in italia e sappia che un mio amico va in italia è possibile ed è probabile che io dica al mio amico ah ok anche tu vai in italia ci vediamo lì molto poco probabile no perché vedete che l'idea è più generale è un'area più estesa e in ogni caso è più generale non posso fare una crocetta su un punto mettiamo il caso invece che io vada a roma e sappia che anche un mio amico va a roma posso dire ah vai anche tu a roma allora ci vediamo lì è molto più probabile che noi ci possiamo incontrare in quanto roma è un punto più concreto quindi a è come se fosse una crocetta ben definita su una cartina e in invece è una cosa più estesa poi vedremo che ci saranno eccezioni e ci saranno delle categorie che sono incomprensibili però insomma quest'idea generale ci può aiutare per molti casi tenendo presente quello che abbiamo detto cioè che ci dobbiamo immaginare una città alla fine del diciannovesimo secolo e all'inizio del ventesimo secolo e che a è più concreto è un punto preciso che io posso segnare sulla cartina e che in è più generale per in io dovrò chiedere ulteriori informazioni provate a dividere questa serie di parole nelle due categorie a e in metti in pausa il video e prova a pensare se queste parole vogliono la preposizione a o in vediamo un attimo al cinema all'università a teatro all'ospedale alla stazione alla fiat a scuola adesso le nostre città hanno molti cinema ma all'inizio quando è stato inventato il cinema se una città aveva un cinema ne aveva solo uno e anche teatro l'università la stessa cosa l'ospedale probabilmente la stessa cosa e così la stazione ci sono moltissime piccole o medie città oggi che hanno una sola stazione se poi il posto ha un nome proprio per esempio la fiat o la ditta pincopallo la stessa cosa a scuola vi potrà sembrare strano ma dovete pensare che anche qui all'inizio del novecento difficilmente c'erano più scuole in una città erano pochi quelli che andavano a scuola ok fabbrica negozio ufficio banca e chiesa invece hanno la preposizione in pensate alla quantità di negozi che ci sono gli uffici qualsiasi attività commerciale ha un ufficio le banche le banche sono state inventate in certo modo molti anni prima e se siete stati in italia sapete che il numero di chiese che ci sono in una città è infinito ok quindi ricapitolando la preposizione a indica un punto che io posso individuare sulla cartina senza nessuna altra indicazione mentre la preposizione in è una zona meno concreta o un luogo meno concreto uno potrebbe pensare ma se io specifico in quale fabbrica in quale negozio in quale ufficio allora cambio la preposizione no vediamo gli esempi vado sono in fabbrica vado sono nella fabbrica di mio zio quindi quello che faccio semplicemente aggiungere l'articolo determinativo la stessa cosa vale per in un negozio nel negozio dei borse di giovanna la mia amica in ufficio nel mio ufficio in chiesa nella chiesa più bella della città o nella chiesa di santa maria quindi anche se è seguita dal nome della chiesa sarà sempre in diverso invece il caso della preposizione a io dico vado sono all'università ma se aggiungo un articolo indeterminativo allora in moltissimi casi userò in vado sono in una università straniera lo stesso con al cinema in un cinema di periferia a teatro in un teatro antico all'ospedale in un ospedale in centro al bar in un bar che abbiamo visto nell'esempio all'inizio se invece utilizzo il nome del posto userò sempre la preposizione a per esempio vado o sono alla fiat vado o sono alla ditta pincopallo